Il calcio dilettantistico si prepara a tornare protagonista su Noi TV nella nuova stagione televisiva. Debutto a lunedì sera alle 21 sulla nostra emittente Palla al Centro, la trasmissione di approfondimento dedicata ai campionati dilettanti, dalla Serie D alla seconda categoria. Un focus di prima serata, in diretta, condotto dal giornalista Simone Ferro, con la collaborazione di Miriana Cecchi, che spazierà con attenzione dalla Versilia alla Lucchesia fino alla Garfagnana. Ogni puntata ospiti, highlights dei match e collegamenti esterni per raccontare tutto il calcio del nostro territorio. L'appuntamento è in diretta su Noi TV, Canale 10 e 510 del Digitale e sulle pagine Facebook di Noi TV e di Palla al Centro. Ma non solo, ogni settimana Noi TV proporrà integralmente il match più importante della giornata di campionato. In attesa della prima puntata, domenica sera appuntamento su Noi TV per tutti gli sportivi, con un focus sulle gare di Coppa, in attesa della partenza vera e propria di tutto il movimento dilettantistico. Palla al centro, c'è! Sono Noi TV